Per il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, sono giorni febbrili, cruciali per alcune scelte amministrative di un'importanza determinante per le sorti future della città. Punto di svolta per un'intera comunità, dalla presentazione del progetto definitivo del nuovo ospedale della Piana, che sarà costruito nel territorio della cittadina, al rilancio dell'area archeologica del Parco dei Tauriani, al nodo del nuovo è ristrutturato Cineteatro Manfroce, ex Scerrone, immobile appena ristrutturato, ma di cui si è scoperto che era mancante del cosiddetto collaudo statico determinante per la riepertura al pubblico del teatro e del cinema. Adesso è corsa contro il tempo per dare la possibilità al più presto ai cittadini palmesi di usufruire dell'enorme capacità della nuova opera, dotato di una sala principale cinematografica e teatrale di oltre 400 posti a sedere, con una scena a grandezza variabile perché la fossa orchestrale può sollevarsi a livello del palcoscenico. L'importante struttura è inoltre una saletta cinematografica 3D di circa 90 posti e gli spazi di un caffè cultura che farà da bar e foyer posta rappresentazione. Il costo dell'intero pacchetto che ha portato alla ristrutturazione del Cineteatro si è girato intorno ai 2 milioni di euro, di cui oltre 900.000 sono stati utilizzati per l'acquisto dell'immobile a carico del bilancio comunale. Ora manca solo il collaudo che è una svista o dimenticanza, per così dire. Stava mandando in fumo le aspettative di un'intera città, la tanto attesa apertura del nuovo Cineteatro Manfroce. Per sopperire a tale mancanza, l'amministrazione comunale ha operato le somme necessarie per dare collaudo al di fuori del finanziamento ricevuto dall'ente per la realizzazione dell'opera. Tale considerevole cifra è stata reperita all'interno del bilancio comunale, sottraendo tuttavia vari importi ad altri capitoli di spesa.